Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studeremo insieme l'esercizio numero 40 del metodo per rabelimento di terzine ed agilità, che è questo. Chiaro? L'esercizio numero 40 è questo. Ci prepara all'acciaccatura, che è così, eh? Dedicato all'acciaccatura, questo, eh? E questo, quindi abbiamo un terzo dito, tre, che dura due pulsazioni, un, due, un, due, poco, ci sa l'acciaccatura, prima del tre c'è il due cerchiato, fra, due, fra, due, uguale in apertura, un, due, un, due, fra, due, fra, due, chiaro? E questo, un, due, un, due, fra, fra, un, due, un, due, chiaro? Mettendo un metronomo lentamente così, e questo, un, due, un, due, fra, due, fra, due, apro, un, due, un, due, fra, due, fra, due, e poi il 69 lo velocizzerete, sarà così. Un, due, un, due, fra, fra, un, due, un, due, fra, un, due, un, due, un, due, due, come va fatto questo? Abbiamo questo movimento del tre, poco prima del tre, diciamo, scenderà il due, così. Quasi insieme, però, come se il due anticipa un po', così. Arriva un po' prima, in anticipo, quindi, un, due, un, due, un, due, un, due. 1, 2, 1, 2, poco prima, questo, potete fare questo, e poi insieme non fate, è un'altra cosa, questo è strettissimo, come esercizio, e poi fate quindi 1, 2, 1, 2, in apertura, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Bene, l'esercizio ve lo mostro in video, così potete ripeterevelo tranquillamente, e sì, è questo qui, va bene? Ripetetelo tantissimo, è molto importante per imparare l'acciaccatura, che poi troverete quasi su tutti i brani un po' più elaborati. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione.